Nella speranza al momento vana di non aver più a che fare con le liste d'attesa e le richieste messe in stand by, i cittadini dell'Ulss 7 Pedemontana possono almeno contare da oggi su due nuovi strumenti per eliminare almeno un'altra attesa, quella per prendere la linea telefonica del centro unico di prenotazione, il CUP. Effettuare una prenotazione diventa infatti ora più agevole in quanto sono stati attivati in questi giorni due innovativi servizi con l'obiettivo di velocizzare e semplificare al massimo le procedure per fissare visite ed esami. Il primo sistema è una nuova funzione sul sito dell'azienda sanitaria che consente di gestire tutta la procedura tramite chat, vi si accede dalla sezione prenotare esami e visite servizio sanitario nazionale, una volta inseriti i propri dati è possibile dialogare via chat con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e 30 per completare tutta la procedura collegandosi da qualunque luogo senza le attese del centralino telefonico. Per quanti invece continuano a preferire il telefono alle nuove tecnologie è stato introdotto un altro servizio innovativo, la possibilità di effettuare la prenotazione tramite segreteria telefonica chiamando il CUP anche negli orari in cui il centralino non è attivo utilizzando i consueti numeri. Dunque d'ora in poi telefonando al CUP da lunedì al venerdì dalle 17 e 30 alle 8 del giorno successivo e il sabato e la domenica 24 ore su 24 risponderà un sistema evoluto di messaggistica che guiderà l'utente nel comunicare i propri dati e quelli dell'impegna attiva. Grazie per la visione! Grazie per la visione!